Ello ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Sono un po' indietro in effetti. In realtà più mi avvicino più ti copro. Se faccio così però ti copro io. Copri tutto. Siamo tornati su Tropical Returns. Cosa? Meno di un'ora, meno di un'ora, vai, ultimo mondo. Partiamo già in ritardo. Partiamo malissimo perché abbiamo tipo, ci ha regalato quattro palloncini funky, ne avevamo zero. E lui era morto e è rinato senza usare palloncini. Vabbè, si è rinato, non so come. Ma il fatto è che abbiamo comprato quattro palloncini e basta perché non c'eravano soldi. Quindi siamo poveri in canna. Siamo senza vite. Vedi Cranky che inizia il livello con la pelliccia d'orso. La catenina d'oro. Sì, sì. Oh, questo crolla. Ok. Sappiamo già che sarà difficile. Qua sotto non bisogna andare. Io non ci proverei. Ah, no, beh, se no, potevo andarci io e te lanciavo il cubo. Era un'idea. Aspetta che basta un attimo. Perché se no... Sentite la musica. Vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua sotto c'è qualcuno. Certo. Oh, 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 oh. Cacchio. Sto succedendo. Non mi hai fatto salvarti? Eh, no, non mi sono salvato. Non potevo tuffarmi. Eh, in realtà sì. E dovevi tuffarti, credo. Ma no, più che altro come hai fatto a... A sopravvivere a... Altre che... No, hai sbagliato a spararti col cannone proprio. Vabbè, il nonno un po' tutto. Vabbè. Vabbè sconfigge gli orsi polari. Il nonno si è riscaldato. Non c'è fretta. Tutti. Ah. Il quello lì era un puzzle. Eh, aspetta, andiamo a prenderlo. Vabbè. Wiii! Ah, si può andare di lì. Eh. No, no, anche le banali dico. Eh. Ah, no, no. Eh, sei da solo. Ottimo! No, no, vincerò per te, per entrambi. Va là. C'è rischiato. Eh, sì, sì. Aspetta. Wiii! Menomale. C'era l'ansia, c'era l'ansia da manco il puzzle. Erano da prendere. No, no, non c'entra così tanto. Vuoi che rinasco o vuoi morire? Aspetta. Menomale. A posto. Questa è stata la mia risposta. Non più, non più, non più, non più che crolla! Oh, oh, oh. Ok. Nonno, acrobat. Eh, io entro, va. Non vedo bauli. Oh, vite. Oh! Non succede niente. Forse. Oh! Calma, eh, bro! Oh, qua cade. Io mi abbasserei. Hai preso un puzzle non so come. Non so neanche come mi avevo fatto a non aggrapparmi. Non mi sono aggrappato, infatti. Bravo, nonno, pesca! Ah, te non rinasci. Eh, non lo so. Guardalo! Oh! Stato in giù? Bra! Ma cattio, ma pensavo di distruggerlo. E sono rimasto dentro il baule. Oh, 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 oh! Sei una merda. Demi... Wow, 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 wow. Aspetta, 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 aspetta. Oh, 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 c'è l'orso in miniatura. Eh, sì, sì. Aspetta che morire. No, aspetta, dobbiamo farla salire lì. Puoi prendere quella banana, intanto? Aspetta. È crollato tutto. Non è che si è liberato un passaggio di là? Eh, infatti era quello che volevo andare a vedere. No. Ammazzia quel collo. Deve salire qua. Ok. Vieni qua, vieni qua. E come faccio? Shit! Aspetta. C'era un qualcosa di sicuro. Qua? Lì non si è liberato niente? Eh, no, è sopra che si fa, però non so come. Niente. Ah, è perso. Prima di morire. Oh! Caposciata! Vabbè, tanto doveva rifarlo per forza. Lì c'era un puzzle di sicuro. Qui c'è, qui c'è, qui. No, no, no! Saliva mentre scendeva il rovo. Il nonno sa grappare. Rimaneva, rimaneva, rimaneva fermo, però. Guarda come è brutto. È bruttissimo. Aspetta, ti salgo su. Così meno ci andiamo insieme. Ok. Ah, doveva scuotere. Stronzo. Valla che moriamo con quelli. Soldi! Che musica epica. Not today. Il nonno se ne va. Aspettami, nonno! Qua abbiamo già preso. Wait for me! Grand ma! Cosa? Cosa? Qua si deve saltare tipo all'ultimo. Bravo nonno! Questo è un ottimo gioco di squadra. Eh, se te non prendi le lettere. Oh, 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 oh. Eh, eh, volevi. Porto un coso. Oh, 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 oh. Il puzzle! No, mi sparavo io, dovevi entrare dentro. Eh, vabbè. Soldi. E me ne prendo... Oh, oh, oh. Perfetto. Non ci abbiamo messo neanche troppo. Dieci minuti. Dieci minuti, cento per cento. L'ho detto, meno di un'ora. Che freestyler. Se facciamo questo in meno di un'ora, al cento per cento, abbiamo vinto il gioco, senza battere il boss. Cosa? C'è scritto nel regolamento. Ah, ok. Libretto di istruzioni. Ma che c'è? Ci sblocca la casa? Io voglio andare a casa. No. Invece? Ma hanno colonizzato anche i trulli lì. Cos'è che sono quei rovi? Sì, sì, i trulli... Pugliesi. Di donkey. Iceberg instabili. Li ha rubati. Tre vite abbiamo, eh. No, no, girotola. Vittoria. Oh, cinque... No, ne abbiamo perso di più di cinque. Boh, ne abbiamo perso tante vittorie. Boh, ma le prendevamo anche. Eh. Sì. Ci si prova sempre. Cos'è? Vietato tsunami. Cosa? No, ho vietato nuotare. Oh, oh, oh. Cala quel robo. Ah, ma torna anche su. Cacchio, ma ti fai male se cade in acqua. Ah, è gelata. Ah, dì. E' blum! Io rimango qua. No, no, vieni, vieni. Madonna. Oh, ho preso il puzzle. Ma cosa serve continuare a pumparlo? Ok. Ho preso il puzzle. È lui che lancia i cosi? Forse lo dobbiamo salire. Sì, è il boss segreto del gioco. Cosa? Mi hanno messo un sacco di minigiochi diversi qua. Sì. Vero. Vai, nonno, prenda tutto. Oh, ma che cacchio. Wow, nonno. Qui, qui, qui. Potrei alzarlo un po' prima. Eh, eh, eh. Se voli. Scusa se i nonni volano. Ah, ti tengo su io. Grazie, nonno. Vai. Teletrasportati, nonno. Ti aspetto. L'ho evocato. Ma quella lì era da distruggere. Cosa? Quella cassa lì. C'è una cassa? Questa qua. No. Oh. Hai già preso tutto? Aspetta, aspetta. Lì sotto, lì sotto, lì sotto. Devo andare io? Che cacchio dici? Non c'è niente che sono. Ucciso da un coniglio. Perdente. Perché mi hai preso? È al volo. Yes. Tale padre, tale non. Cosa? Aiuto. Io sono tuo padre. Non morire, non morire. Non morire. Non morire. F***. Non morire. Ma che nonno? Oh. Muore. Oh. No, mi esplosa. Mi esplosa in the hand. Tu non capisci cosa sto dicendo. Nonno vuole i soldi. I soldi servono. Occhio che c'è la bomba. Come sono morto? Cos'è che mi ha ucciso? C'è successo? Ma sono morto a caso. Ti manca. Che ti fai? Non lo so, aiuto. Si slitta. Oh, lì ho aperto il passaggio comunque. Andiamo. Con la de bomba. Vai vai. Questo qua è tipo uno dei più facili. Si. E infatti non lo faremo mai. Se ne sono stati due per adesso. Tre. Vai però li stiamo prendendo i pezzi di puzzle. Ho detto 100% in meno di 10 minuti. Eh, meno di un'ora. Oh cacchio, ti ho distrutto il telecomando. Eh, 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 tanto è tuo. Il intac è mio. Eh, vabbè. Nono teletrasportino. Aiuto. Vado giù. E quella? Ah, bisognava prendere il coso e lanciarlo. C'era qualcosa dopo da lanciare? No, no, no. Qua. Vai, tira su. Ah, eccoli. Aiuto. Sono morto. Stai su. Occhio. Ah, no, non passo. Bravo. Prendi banane. Qua scendeva. Si è esplosito da solo. Oh cacchio. Aspettami nonno. Ma che cacchio. Lo sta facendo? Ah, no, ma io ero vivo ancora. Oh, c'è, c'è che... Sto esplodendo. Esplode. La bomba. Perché te le lasciano lì proprio che esplodono? Eh, sì, al minimo. Oddio, che inserite. Braa. Bravissimo. Vai. Guardi un'altra. Assolutamente no. Nonno. Nonno. Sono qua. Non ho tasche, e te? Buuuuuh. L'accelerazione è tipo... E non è morto. Eh, quello ti ammazza. È finita. No. Non mi avrà. Oh. Senti che la musica sotto, tipo... No, da ultimo uomo sulla vita. Sulla vita. Piede il cuore. Voilà. Tanto. Ah, ma crolla sto cuore. Come fai ad essere vivo? Va bene. Ma vaffanculo, qui col gufo di merda. Il gufo di merda. Ha fatto un volo, ha fatto... Non so come mi sono salvato. Ti hai fatto delle robe epiche e poi col gufo di merda. Pish, pish, di rimbalzo. Super Saiyan. E in effetti già... Vedi il nonno col Kaioken che gli arriva la barba su. Scasto tutti. Cosa che diventa... Ma mi è stato Titanic in fi? Oh. Ma che nave è? È impossibile una nave così. Oh, via. Bumba. Arrivò. Ok. Siamo vedi. Sai che qua si arriva qualcosa. Vai. Distruggilo. Aspetta, aspetta, aspetta. Tira su. Tu sei un assassino. Eh, di qua c'è... Lassopra c'è qualcosa. Sei una merda, sei una merda. Mi hai fatto morire. Mi hai fatto morire. Qua si arriva lassopra. Ah, ci arriva con l'iceberg? Come si arriva lassopra? Con l'iceberg di là? O no? Tu sei uno stronzo immane, bastardo. Forse con i pesci? Aspetta, vediamo dove arrivano. Oh, è impossibile. Non puoi arrivare là sopra. Nel dubbio lo ammazzi. Forse con Dixie. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Vola. No, no. Fly away. Va bene. Finish. Va bene. Sopra là c'era l'ultimo puzzle, se ce ne manca uno. E infatti, ok, non sappiamo come arrivarci però. Anche perché tipo i, cioè ci sono i nemici prima ma sono ghiacciati quindi se li colpisci ti fai male. Eh, non lo so, secondo me devi avere Dixie. O Dixie, assolutamente. Arrivi lì dove sono i due cose che hai rotto e sali. Sì, prima di spaccare forse. Magari prima di spaccare riesci ad arrivarci anche. No, normalmente no. Vai avanti. Ah, solo io. Do sei da solo. Fondo friabile. Wihihi. Wè. Wè, waiu. Nonno napoletano. Nappa. Nappa. Nonno nappa. Cosa? Qualcosa è un pelato. Sì. Nonno. Ah, sei da solo. Là c'è una scivia. Bravo no. Sopra il coso? Sopra le foglie. Qua crolla tutto. Tienitelo quello. Ma sei un bozzuana. Sei un bozzuana. Cos'è? Vieni. Non ho capito. Va nelle foglie. Guarda. Guarda qua. Non c'è niente. Torna dietro. Non c'è niente. C'è un pezzo di merda. Un pezzo di merda. No, non dobbiamo salvare la specie. C'è un pezzo di merda. Aspetta qua e si va. Oppala. Oppala. Guardalo. Che boxer. Ma è mutante quel uomo. Cosa? Demi. Il nonno. Cosa sta facendo? Il nonno. Il nonno. Cosa? Ma vaffanculo. Vaffanculo. Dovevo aspettare. Lei aveva troppa fretta. Troppa fretta. Io non capivo neanche dove eravamo. Che cosa è successo? Non ce ne bisogna. No, non ti farò vedere che sono un uomo degno della tua... Cosa? Il bastone. Occhio. Grappati lì. Vabbè, lui salta diretto. Via, via! Occhio che hai una vita. Via! Come to me! Oh, fammi dire. Vieni nonno! Vieni! Vieni! Qua. No, lì c'è da tirare uno. Barile forse. Oppure quello da sopra. Da prenderlo! Bra... Bravissimo! Avevo paura di morire, giuro. Aspetta che ne prendo un altro. Vaffanculo. Non si può più! Questo lo dici tu! Oh, è rinato. Vai lì e spaccaglielo in faccia. Adesso probabilmente non possiamo... È rinato anche il livello qua. Il nonno! Oh, c'era un puzzle! Fammi scendere! Moriamo! Oh! Così non neanche permettercelo. Il fatto è uno. Che se moriamo abbiamo perso. Oddio, qua... Ecco. Arrivo qui! Queste banane sono da prendere. Oh, c'è che crolla il coso, eh? Ciao! Quelle banane sono da prendere. Lentamente, vedi che crollava il ruolo. Quelle banane sono da prendere. C'era... Il baule qua. Bravissimo! Perfetto! Ho sentito una retromarcia ma... Non è venuto a prendere. Perfetto! Volevo girarmi e tipo roteare e saltare ma... Perfetto, lì bisogna lanciarsi. Eh, ma non sapevo come. No! Sei un bastardo! Uno stronzo! Uno stronzo! Hai don't understand what you're... Uno stronzo! Tre vite! Vola, nonno! Oh, oh! Lascia un coso! Bravo, nonno! Nonno non ci vede più come una volta. Non ha più il senso della misura. Aiuto! Baccoso! Baccoso! Cosa stai dicendo? Il nonno vola, si tele-trasporta quel cacchio che vuole. Ma come faccio? Oh, qua! Oh, oh, oh! Si vedeva più niente. Il nonno andava a caso. Occhio! Boom! Uh, è che il nonno si salva, è incredibile! Il nonno vuole... Ammazza tutti anche! Si tele-trasporta. Ah, non ci sono più vite. Oh, voilà! Preso! Fuck! Cacchio! Che palle quel pezzo! C'era... Ci sono le... C'è un barile, c'è un barile, c'è un barile! Distrutto. C'era. Spara da solo. Eh, ma io non posso più entrare. Qua? Vai a vincere. Va bene. Soldi. Prichamente no. Forse... O c'era il barile con un pezzo di puzzle, che forse era quello. Non lo so. È proprio esploso il barile. Eh, ma... Ma mi sa che prima l'ho preso. O forse si poteva tipo prendere per saltare dall'altra parte, non so. Mi sa che tipo prima l'ho preso ti fa fare solo un salto più alto. Eh, sì. Però il nonno non ha bisogno perché vola qui. Esatto. Vai nonno. Grandissimo. Eh, vabbè, qua non c'era solo. Vado da solo? Vai. Grotta Granita. Il nonno fa un livello da solo adesso. Anche perché... Flaggando. Franchi... Franchi Fenchi. Frank Sinatra. Frank Sinatra sta lì sotto. Ah, zzz. Beh, esiste anche Frank Sinatra delle altre isole. No, non dobbiamo chiedere. È quello. Uh, il nonno l'ha visto. L'ha visto, l'ha puntato. Magari trovi un blocco per me. Ah, devi tirare quello lì grosso. Cacchio. Oh, madonna. Forse puoi salire sopra la palla. Faccio la guata da dietro. Il nonno. Ah, c'è il barile donkey. Ah, c'è il barile donkey. Oh, mi grecia. Oh, il nonno vuole i soldi. Eccomi, nonno. Non sprecherò la vita da te, data. T'ho creato io, perché io sono tuo padre. Dalla costola di Cranky. No, costola. Soldi. E si parte. Vai. Oh, abbiamo due palloncini. Non è possibile. A caso. Ah, è un livello così. Oh. Vado io. Nonno. Statte calm. Statte calm nu poco. La patente l'ho presa troppo tempo fa. Non l'hai presa la patente, nonno. Te l'hai presa. L'hai presa. Ah, l'hai ritirata senza avercela. Perché appunto guidava senza averla. Ah, ok. Quindi hai detto, te la ritiriamo così già in anticipo. Sì. Non si sa mai. La prossima patente che hai è già ritirata. Occhio che qua compaiono i pezzi di puzzle. Come niente. Infatti là mi sa che c'era una scena di banane che bisognava prendere. Ah, tutte bisognava prendere. Anche quelle sopra e sotto, in contemporanea. Queste si devono prendere, dai. Vedi? Per un cascone di banane. Per un cascone di banane. Il cascone per la patente. Ah, ok. Il casco. Perché sono in moto. Oh. Te li ricordi? Sì, sì, sì. Quelli obesi. Eh, bravo. Vita. Buono, 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 buono. Sei in alto, sei in alto. Ma oh, oh, oh. 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 Porca miseria. Caputanza. Caputanza. Soldi. Stiamo diventando schillati in questo gioco. Prende anche la vita. Stai, diventa perché stai giudando solo te. Questi sono da prendere tutti e ne è già mancato uno, quindi niente. Yeah. N. Oh, che rapata. Vedi, Tonchi è pelato. Ti sono inghiacciati. I piselli ti sono inghiacciati. Quasi. Sempre peggio. Oh. Che spatentato. Oh, madonna. Gì, è quasi finito. Guarda che boost. Maronne. Beh. Io qua con queste esplosioni. Cosa? Salta. Cosa? Sto saltando io, eh? What the hell? Te non stai saltando. Io sto saltando. Di saltare? Porca troia. Permesso. Figa. No. Permesso. Vido io. Scusa? Nonno, non hai riflessi. Sei vecchio. Vido una palla di neve gigante. Il nonno può fare tutto. Il nonno. Il nonno. Il nonno vola. Spatta tutto il nonno. Qua? Non ci sono... Qua traballa tutto. Il fiuto del nonno. Il fiuto. Ma sono andato io. Però l'ho fiutato io. Non mi hai detto niente. Ho fiutato il nonno. Ho fiutato il nonno. Spira, ho fiutato il nonno. Il nonno ha fiutato troppo. Nonno l'ha pippato. Nooo. Anche Donkey. E qua vedo le palle di neve girare. E vabbè, sono un casco. Non lo volevo. La sicurezza prima di tutto. Esatto. Che livello di merda. Vabbè, fatto. Via. Questo ci abbiamo messo. E andiamo. 5 minuti. Neanche. 2 minuti ci abbiamo messo. Nonno si è già stancato di camminare. Ho già fatto anche... Non ha camminato per niente in quel livello. Un po' lava e basta. Sì, sì. Come on, come on.